Il Trem Dunque, io sono a Calcinaia in rappresentanza come presidente del Lions Club Pontedera che è arrivato al sesto anno di questa manifestazione. Abbiamo cominciato con Pontedera, poi siamo passati a Ponzacco, poi Bientina, Peccioli, Capannoli e quest'anno siamo qua a Calcinaia. La manifestazione si svolge, come vedete, poi dopo ne parlerà più dettagliatamente l'organizzatore medico del club con questi gazebo, con la camminata, stili di vita, nutrizionista, medico che parla di come ci si comporta nell'alimentazione eccetera e questo è un segnale che diamo per conoscenza alla popolazione, al cittadino che riesce così a forse assumere stili di vita migliori. Sono il presidente del Lions Club Pontedera Valdera, il nostro è un club che nasce come costola del club del Pontedera e il club del Pontedera ci ha chiesto già in quasi tutti questi anni di collaborare con loro nell'organizzazione di questo evento e lo abbiamo fatto con piacere anche quest'anno perché è un evento che mette i Lions in piazza quindi noi siamo a servizio della comunità, quest'anno il nostro distretto in ambito regionale ha fatto qualcosa come 16.000 visite gratuite e quindi questo è uno di quei tantissimi eventi che sono stati organizzati in questa occasione. Quante patologie si evidenziano durante queste, mediamente una percentuale? Ma le patologie sono le più diversificate, tutte quelle che possono essere utilizzate con uno screening immediato quindi il diabete è una di queste, forse è la più importante e oggettivamente mi sembra anche riuscito l'ho fatto anch'io la diagnostica con un po' di timore però devo dire che vinto il timore iniziale il risultato è importantissimo perché ti dà un'immediata consapevolezza del tuo stato di salute. Io sono stato incaricato quest'anno dal Lions Club Ponte d'Era, Ponte d'Era Valdera e dal Leo Club Ponte d'Era di organizzare questa giornata di prevenzione del diabete mellito tipo 2 che è una patologia che possiamo definire ormai come un'epidemia sociale perché nel corso degli anni la prevalenza è stata un incremento esponenziale da una prevalenza del 4-4,5% della popolazione siamo arrivati a 7% oltre, in alcuni casi si arriva anche al 10% di pazienti con diabete mellito tipo 2 e anche si può arrivare al 10% delle situazioni pre-diabete come può essere alterata glicemia di giuno quindi interessa un'ampia fetta della popolazione. Diabete mellito tipo 2 sappiamo che è una patologia metabolica legata all'aumento della glicemia nel sangue ma che porta negli anni complicazioni importanti come eventi cardiovascolari come ictus, infarti, alterazioni della vista come retinopatia, insufficienza renale quindi situazioni importanti che se scoperto in tempo oppure se si riesce a prevenirlo con un adeguato stile di vita, quindi con un'alimentazione corretta, con l'attività fisica regolare possiamo ridurre l'insorgenza di queste complicanze. Ecco ma come mai c'è stato un aumento così considerevole? Ma i fattori probabilmente sono molteplici, il principale è l'alimentazione l'alimentazione sicuramente anni fa, penso al dopoguerra, l'alimentazione era minore e quindi la prevalenza era minore. Piano piano con il bel essere e si mangia sempre di più si mangia sempre più in fretta e si mangia sempre più prodotti con carboidrati a rapido assorbimento che portano facilmente all'insorgenza di questo facciamo meno attività fisica, la gente è sempre più sovrappesa o obesa e il sovrappeso e l'obesità sono i primi fattori di rischio, oltre al fattore editario dell'insorgenza di questa malattia. Ci sono dei segnali a cui fare attenzione? Ma i segnali, il primo segnale non i sintomi, il primo segnale è stare attenti al sovrappeso quando un paziente comincia a ingrassare si deve rendere conto che questo può predisporre a tante patologie fra cui anche il diabete e quindi dovrebbe cercare di cambiare l'alimentazione e fare attività fisica. Poi purtroppo se uno ha già superato il livello di malattia deve stare attento a alcuni sintomi che possono essere il dimagrimento o l'aumento della diurisi cioè orinare tanto e contemporaneamente avere tanta sete. Questi sono già dei sintomi che possono far sospettare l'insorgenza di una malattia alla quale magari non pensi.